Si accorcerà dal primo luglio l'orario di esercizio del punto di primo intervento di Abbiategrasso. Ormai da anni declassato, quello che era il pronto soccorso dell'ospedale Cantù subisce un'ulteriore riduzione del servizio, seppure soltanto per il periodo estivo. La sforbiciata è pari a un terzo del tempo di esercizio, cioè quattro ore. Invece di rimanere aperto dalle 8 alle 20, il punto di primo intervento di Abbiategrasso resterà attivo soltanto dalle 8 alle 16. Il motivo va ricondotto alle carenze di personale, talmente ridotto all'osso da non poter permettere lo svolgimento delle normali ferie estive senza avere ripercussioni sui turni di lavoro. Ecco così che, come accade in molte altre strutture lombarde, con l'arrivo dell'alta stagione vacanziera si tagliano i servizi. L'orario ridotto di un terzo partirà dal lunedì primo luglio e proseguirà fino a domenica 15 settembre. Da lunedì 16 settembre è previsto l'ingresso di personale di rinforzo, in modo da poter tornare a garantire le 12 ore di esercizio quotidiane. Per quest'estate, al punto di primo intervento dell'ospedale di Abbiategrasso, è previsto che ci sia in turno un medico, che farà orario continuato per tutte le 8 ore di apertura del servizio, due infermieri con orari leggermente sfalcati per garantire le operazioni di apertura e di chiusura del presidio, e infine un operatore socio-sanitario, anch'egli con un turno unico di 8 ore come il medico. La coperta, come si può comprendere da queste turnistiche, è davvero corta e servirà la massima abnegazione da parte degli addetti per riuscire a portare a termine senza inconvenienti le attività per l'intero periodo estivo.